Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Aleatico, Moscato, Ansonica. Queste le eccellenze della produzione vinicola elbana, almeno fino ad oggi. Tre passiti apparentemente impareggiabili e frutto di vitigni autoctoni e delle tradizioni della vinificazione elbana. Eppure da oggi un nuovo vino con queste caratteristiche rischia di far saltare gli equilibri della tradizione dei nostri vini. Si tratta del Vin Santo Occhio di Pernice, la cui annata 2006 è stata presentata dall'azienda agricola Montefabrello lunedì 14 maggio di fronte a una platea di addetti ai lavori, ristoratori e sommelier elbani. Abbiamo deciso sette anni fa di intraprendere questa sperimentazione di vinificazione, ha detto il titolare dell'azienda, Dimitri Galletti. Se vogliamo una sperimentazione insolita per la nostra isola, ma comunque inserita nel disciplinare della doc Elba, è quindi praticabile. Dalla vendemmia 2006, quindi, abbiamo destinato 15 quintali di uva sangiovese, altamente selezionata, al nostro Vin Santo Occhio di Pernice. Il processo di vinificazione per ottenere il Vin Santo di questo tipo prevede che tra la fine di settembre e l'inizio d'ottobre venga effettuata la vendemmia. Esperti vendemmiatori raccolgono solo i grappoli di sangiovese in condizioni sanitarie perfette, staccandoli dalla pianta e disponendoli a formare i cosiddetti pensoli, che vengono appesi con cura nella stanza chiamata fruttaia. In questa stanza i grappoli appesi vengono lasciati ad appassire fino a fine dicembre. La disidratazione rende i grappoli sempre più dolci, quegli stessi grappoli che sapientemente lavorati danno vita a questo passito così speciale. Il risultato alla degustazione degli esperti è apparso decisamente di altissimo livello. Il Vin Santo Occhio di Pernice di Montefabrello si caratterizza per una colorazione con delle tonalità particolarmente vivaci, che possono variare dall'ambrato fino al marrone. Una consistenza decisamente importante lo caratterizza con note di rabarbaro, pepe, cuoio, liquirizia, sia al naso che al palato. E anche sugli abbinamenti non mancano note di originalità. Si passa dal classico abbinamento dolce a un possibile abbinamento con formaggi erborinati. Dai 15 quintali di uva sangiovese, che destiniamo al Vin Santo, rimane una produzione di circa 250 litri, ha concluso Dimitri Galletti, per un totale di poco meno di 700 bottiglie. Sarà dunque un prodotto di nicchia, con una commercializzazione decisamente limitata.